E' la passione che ti spinge, ti spinge ad amare questo sport, ti spinge ad amare la vela. Alla base di tutto c'è la passione, l'amore e soprattutto la voglia di lavorare in team. La cosa più importante è fare gruppo, fare team e diventare un corpo unico. Team Anemos è proprio questo. Un amico mi ha consigliato Anemos per due motivi. Uno sicuramente per la qualità e il livello tecnico. Alla seconda per lo stile, per il fatto di essere numerosi e di essere anche gagliardi. Consiglierei sicuramente a delle persone interessate comunque ad avvicinarsi a questo mondo di venire in Anemos. Abbiamo conosciuto Anemos nel 2008 e ci siamo avvicinati a loro perché all'epoca sono stati i primi a parlare di vera terapia. In realtà ci siamo visti praticare uno sport applicato a un beneficio quasi curativo, direi, per persone con disabilità. Noi siamo tutti i primi a parlare di un'amore. Concentro rondavera Anemos.